Sono Giovanni e non ho nessun ecovillaggio, però ho la possibilità di proporre la partenza di un ecovillaggio. C'è del terreno a disposizione, c'è una casa a disposizione, c'è una sorgente e un laghetto a disposizione. Venite a Torino. C'è una bellissima vista, si vede Torino, si vede la pianura, si vede il Monviso. Gli voglio bene questo posto. Oggi sono 20 anni che praticamente non viene coltivato, adesso ultimamente sono riuscito a trovare qualcuno che invece mi coltiva circa, fa un orto di circa 2.000 metri quadri. La disponibilità è di circa 1.000 metri quadri di coperto. La disponibilità è circa di 1.000 metri quadri di coperto e al momento in parte è strutturalmente valido. Gli interni invece sono in gran parte da decidere da impostare, a seconda poi del programma che potrebbe poi essere definito con qualcuno. In questo momento quindi chi fosse interessato, probabilmente più tardi ci possiamo vedere e rincontrare, il posto è a San Raffaele Cimena che è a 15 km da Torino ed è a 15 km dall'aeroporto a 3 km dalle autostrade. Grazie. 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 Grazie a tutti.